benvenuti io sono il cencio e questo nuovo episodio di silent hill 3 riprendiamo qua nel silenzio più totale della metropolitana ci siamo lasciati nello scorso episodio dove non abbiamo visto gameplay abbiamo semplicemente fatto un mega enorme riassuntone proprio l'ho fatto il più in breve possibile della lore finora cosa che spero che abbiate gradito fatemi sapere se la cosa vi aggrada o se preferite i spiegoni in mezzo così al gameplay non lo so sto ancora cercando di capire quello che è meglio fare per accontentare un po tutti perché è impossibile accontentare tutti tutti ma si fa del nostro meglio adesso siamo dentro questa metropolitana che come vi ho detto non è una location particolarmente interessante nel senso non è un luogo che è stato messo qua per lanciarci un messaggio o parlarci di un qualcosa di preciso è semplicemente un mezzuccio un po me per non inserire l'esplorazione dell'intera silent hill in questo gioco perché loro ovviamente non potevano farlo visto il numero ridotto di persone e di budget ma questi cartelloni che troviamo in giro sono molto molto interessanti quindi diamogli un'occhiata vediamo qua un fruity rouge quindi si parla di lipstick di rossetti gloss roba insomma per le labbra al sapore di frutta un altro eco actions vediamo se riusciamo a leggere meglio quello che ci sta sotto think about earth day pensa al giorno della terra azioni ecologiche qui un sacco di spot vuoti di nuovo ecco actions e voilà vediamo qualcos'altro growing strong and healthy minmo cat foods minmo cosa vi fanno venire in mente tutti questi cartelloni continuiamo a girare un po perché se non ricordo male erano solamente questi tre ma di nuovo fruity rouge ecco action di nuovo si erano questi tre questi tre cartelloni sembrano buttati lì a caso no perché con tutti i difetti che ha questo gioco sempre il team silent no ve l'ho detto e continuerò a ripetervelo fino alla nausea tanto quanto ci dà la nausea questa telecamera molto ballerina questi cartelloni non sono a caso guardiamo che cosa hanno in comune qui si parla di anzi questo lo lasciamo per ultimo io partirei direttamente dal quello dei rossetti no se andiamo a guardare questo cartellone fruity rouge vedete rossetti alla frutta o comunque stick per labbra alla frutta non è per forza devono essere colorati però è un qualcosa innanzitutto di femminile strettamente femminile non che non ci siano maschi che non si mettono il rossetto ma questo è un altro discorso noi lo ignoriamo perché non ci interessa il rossetto è un cosmetico proprio tipicamente femminile ma in questo caso alla frutta chi è che per eccellenza si mette il gloss o il cosino alla frutta sulle labbra profumato che profuma di fragola che lo senti da un chilometro le adolescenti le ragazzine proprio quando sono proprio adolescenti quando sono ancora piccole poi quando si cresce che si diventa donna si fa proprio di quel rossettone rosso quello proprio potente che non si sbaffa neanche quando bevi il vino per esempio no cioè lì quello è un rossetto da donna adulta matura il rossettino alla frutta è una roba ragazzina di 14 anni no 15 anni e questo dobbiamo tenerci la mente perché poi se guardiamo il cartellone dopo abbiamo eco actions think about her day my friend ovvero l'ecologia la il partecipare no alle alle questioni sociali chi è che per eccellenza lo fa chi sono i ribelli per eccellenza i rivoluzionari quelli che di norma si buttano a capofitto nell'ecologia gli adolescenti soprattutto quelli di sesso femminile perché le femmine sono un po più portate no al come dire al curare gli altri per modo di dire si interessano un pochettino di più dei maschi a queste cose in realtà nei temi così sociali giovanili devo dire che c'è abbastanza parità tra tra i sessi nel senso entrambi i sessi sono abbastanza interessati alla cosa però un pochettino di più le femmine quindi di nuovo abbiamo un altro cartellone abbastanza indirizzato al genere femminile è sempre incentrato su tematiche che riguardano che interessano spesso gli esseri umani durante l'adolescenza per poi andare nell'ultimo cartellone quello un attimino più enigmatico ma anche il più diretto diretto growing strong and healthy crescere forti e sani è ovviamente il cartellone pubblicitario di cibo per gatti quindi non è che sto dicendo che gli adolescenti si mangiano il cibo per gatti sia chiaro però è falesemente quel crescere sani e forti è quello che fa un adolescente sta crescendo è il momento l'adolescenza è il momento della crescita più importante in assoluto proprio dove si stravolge tutto sia il corpo che la mente ed è importantissimo lì crescere sani e forti perché per esempio l'alimentazione ha un ruolo fondamentale nell'adolescenza se si ha una corretta alimentazione nel periodo adolescenziale si hanno molti meno problemi alimentari dopo nell'età adulta se si fa molto sport nel periodo adolescenziale si ha molti meno problemi fisici e di peso diciamo nell'età adulta cioè nel senso se si è in forma nel periodo adolescenziale è molto più facile rimanere in forma dopo quando si ha 30 40 anni comincia a venirti la panzetta ai maschi e alle femmine gli viene la cellulite il culone ai fianchi larghi no le classiche problematiche di quando si cresce che succede a tutti cioè inevitabile il corpo umano che così no però se nell'adolescenza si ha una dieta corretta e si fa una giusta attività fisica si riesce poi nell'età adulta a gestire meglio il proprio corpo e la propria salute no ed è proprio questo che intende di nuovo crescere forti e sani nel periodo adolescenziale un altro rimando a quel periodo di un po più velato un po più particolare sì lo ammetto ma pur sempre lì vediamo invece qua abbiamo un cartello azel street a sinistra andiamo ad azel street a destra exit concorso ora io ovviamente non ricordo come si usciva da questa metro quindi noi la esploriamo ben bene azel street exit vediamo un po se riusciamo a uscire in azel street no questa è bloccata nel frattempo teniamo anche gli occhi aperti per eventuali altri cartelloni ma io se non ricordo male non c'erano non solo tre infatti anche qui sempre questi sono exit vediamo eh ti sarebbe piaciuto uscire in azel street ti sarebbe piaciuto e invece no rimarrai chiuso qui dentro perché noi non avevamo i soldi per creare la città di silent hill quindi vagherai per la metropolitana non ci resta che andare al concorso si vedete i cartelloni quelli sono però vedete sono stati furbi perché se abbiamo visto che il il centro commerciale e il luna park sono luoghi di ritrovo e di divertimento soprattutto per gli adolescenti subito dopo hanno dovuto mettere sta metropolitana come magheggio per evitare di costruire una città intera esplorabile e hanno detto boh sai che non c'entra niente con quello che vogliamo fare noi ma noi ci mettiamo dentro i cartelloni che riguardano comunque vada gli adolescenti i loro interessi le loro passioni e gli oggetti che utilizzano è tutto estremamente silenzioso e tranquillo però qui eh stasci or trash qua immagino che sia ovviamente bloccata l'uscita eh già rotta ovviamente noi non abbiamo una mappa di questa zona quindi sarebbe comodo trovare una cartina della metropolitana qua da qualche parte tipo qui eccola qui c'è una mappa della metropolitana anche senza consultarla so come trovare la strada di casa devo solo salire sul treno per bergen street al binario 3 ok ok bergen street al binario 3 quindi ma potremmo passare sì lì è aperto però prima voglio continuare a dare un occhio qua dove si fanno i biglietti non credo che ne avremo bisogno neanche introducendo i soldi riesco ad ottenere un biglietto la biglietteria è rotta ai 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 abbiamo imparato a leggere questi messaggi noi no ormai siamo siamo veterani di silent hill del suo other world riusciamo a leggere i segnali immediatamente biglietterie rotte vogliono dire che l'other world sta arrivando o perlomeno che ci sta braccando in qualche modo guardate la dentro guardate la dentro di nuovo il poster mamma mia non si legge bene da qui vediamo se a volevo vedere da qui non si vede possiamo entrare dentro la tipo reception o la cartina hazel street ok prendiamola così adesso lei dovrebbe aver segnato automaticamente esatto tutte le porte che noi abbiamo provato ad aprire tickets vediamo se possiamo entrare no maledizione comunque lì avevamo un altro poster tipo di quelli a mo' di shoé anzazzo avete mai ok 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 pare tranquillo qui rotta madonna sembra che sono dietro ok quindi da qui non si va da nessuna parte dobbiamo scendere per forza abbiamo due scale oh no abbiamo una porta dritto davanti a noi chiusa good quality good taste hamburger o comunque cos'è una specie di hot dog guardate cioè è tipo un paninazzo con hamburger wuster senape ketchup un'altra cosa tipicamente adolescenziale andiamo a cercare questo simpaticone siete pronti non è qui ma devo guardare questa telecamera ok 3 bergen street di là north end powell garden save point ecco perché è tranquillo qui salviamo subito immediatamente non sappiamo cosa potrebbe capitarci oh è aperto mannaggia mannaggia ma ando siamo ok quindi abbiamo tutte quelle scale che non abbiamo controllato però aspettate allora fatemi tirare fuori il mio fido mouse noi siamo scesi da qui ok perché abbiamo la freccettina che va giù e siamo arrivati esattamente qui quindi l'altra scala ci farà arrivare qui quindi identica e l'altra ci fa arrivare qui giusto? ok quindi tutte le scale tutte le scalinate ci portano in questa zona qua non ci dovremmo essere persi niente non ci dovremmo essere persi nulla però vedete che già cominciano a esserci cose sbarrate l'other world sta di nuovo prendendo il sopravvento e abbiamo già visto che questa volta l'other world è diverso di nuovo per la terza volta di fila abbiamo un other world diverso da quello del primo e del secondo silent hill per diverso intendo la motivazione della sua esistenza e come influenza le persone vi ricordo che il primo other world altro non era che la manifestazione fisica del dolore di Alessa che aveva provato durante le torture che gli erano state inflitte e che conteneva tutte le sue paure tutte le sue fobie tutti i suoi pensieri tutte le sue frustrazioni l'other world di silent hill 2 invece non era una vera e propria realtà parallela era l'inferno personale dei nostri protagonisti dove espiavano tra virgolette le loro colpe che si parlava molto di colpe di colpevoli di peccato questa volta invece abbiamo un other world diverso non sembra né l'other world di Alessa né un inferno personale di nessuno forse proprio di Eder ma non lo sappiamo fatto sta che se nell'other world del primo silent hill ci finiva solamente chi veniva tirato dentro da Alessa per un motivo o per un altro per punirlo per farlo soffrire per mostrargli la verità per fargli sentire quello che provava comunque era Alessa che trascinava le persone usando come mezzo silent hill all'interno dell'other world in silent hill 2 invece ci finivano i peccatori coloro che erano i colpevoli di un grande peccato di una colpa di un senso di colpa personale che si portavano dentro loro stessi creavano il loro personale other world e la loro personale silent hill il loro personalissimo incubo nessuno poteva trascinare altri in quell'incubo vi ricordate la bambina che ne era immune lei non vedeva niente di tutto ciò perché era l'unica innocente in tutta quella storia questa volta invece abbiamo visto Eder sprofondare nell'other world ma anche Douglas anche l'investigatore privato ha visto tutto ciò uguale pari pari di quello che ha visto Eder quindi è diverso di nuovo non è né Alessa né un inferno personale è qualcosa di diverso e questo è molto 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 interessante ma vediamo qua un bel catenaccione le catene che chiudono la porta sono bloccate con un dado e un bullone ok quindi abbiamo bisogno di una chiave inglese il bullone è stretto molto forte con le mani non riesco a svitarlo ok ci serve una chiave inglese di qua invece immagino che sia chiuso esatto ricapitoliamo dove siamo qui quindi possiamo andare a vedere dritto dritto in fondo qua power garden north end power garden sarà chiusa sì north end north end è aperta ok lasciamocela per dopo north end esploriamo un piano lavoro e questa è una tecnica che io uso ho sempre usato in tutti i survival horror old school tutti i vecchi resident evil silent hill alone in the dark tutti questi survival horror qui che fanno dell'esplorazione un punto fondamentale del gameplay io ho sempre sfruttato questa tecnica per non perdermi e soprattutto cercare di perdermi il meno possibile gli oggetti o le chicche le cose in giro esplorare un piano alla volta non cambiare piano ecco vedete qua per esempio si va per bergen ed è aperto quindi sappiamo che bergen è il nostro obiettivo noi vogliamo esplorare comunque quindi ce lo lasciamo per ultimo renata college eh già renata college ed è aperto anche qui però probabilmente sarà lo stesso piano del bergen semplicemente da un altro lato e probabilmente anche l'altra uscita che avevamo visto sarà ma qui non ci ho neanche provato a entrare qui è rotto e di qua dicevo la scalinata ci porterà nello stesso posto semplicemente in un punto leggermente diverso ok chiuso ripartiamo quindi dall'ultima scala vedete così facciamo un po' avanti e indietro ci mettiamo di più ma è meglio perlomeno io mi trovo molto meglio così north end oh vai guardate la la luce della torcia che clippa nel muro e si vede la luce dietro la posso illuminare laggiù oltre il muro i cani mannaggia che paura guardate guardate ci siamo già sprofondati di brutto guardate come è tutto rugginoso grate cerchiamo di evitarli il più possibile evitiamo anche il combattimento oh oh volevo prendere quella roba ma non era niente riprendibile ok check hp non ho sbagliato tasto stiamo benissimo ok non ci hanno fatto niente abbiamo giubbottito l'aggiù di la luce da qui si scende ancora di più guarda avanti guarda avanti ok non c'è assolutamente niente se non una zona di passaggio una zona di passaggio ok da qui si risale basta mantenere la karma andrà tutto bene non ci sono cure non ci sono proiettili in giro i cani sono rimasti indietro di brutto sono rimasti indietro eccoli 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 ok procediamo scendiamo ancora di più nell'otherworld lì c'era qualcosa forse no non c'è assolutamente niente gira sta telecamera vedo che riusciamo a schivarli bene anche con il giubbotto antiproiettile questo mi rincuora via 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 ups tornato normale qui siamo tipo vedete oh oh il passaggio è bloccato dai rifiuti da qui non si passa ok ma qui sopra c'è una specie di uno schiaccianoci uno schiaccianoci è arrugginito è impossibile da usare è per rompere noci aperte ok teniamolo a me sembrava una specie di chiave inglese ma va bene dove siamo siamo nella parte di sotto abbiamo un sacco di altre scale che possiamo prendere che ci porteranno in zone diverse prendiamole quindi torniamo dai cani boni boni scendiamo da qui vedete è strano anche questo uuuu il passaggio è bloccato dai rifiuti da qui non si passa eh sì ma questo non è un rifiuto un cadavere non posso fare niente per questo poveraccio ah prima ci aveva detto qualcos'altro ma come al solito premendo qualsiasi tasto si schippano le oh proiettili cosa stavo per lasciare qui ci sono dei proiettili ok abbiamo preso tutto sì mi pare di sì quindi abbiamo un'altra uscita altre scale da prendere to platform 3 to platform 1 4 2 1 ok la piattaforma 3 è quella che a noi ci interessa però non da sto lato qua questa è north end non so se ok da lì non dovrebbero esserci altre scale rieccoci di nuovo semi fuori vedete è strano questo other world è strano non è come gli altri negli altri other world quando entravi era come varcare una soglia in cui tutto cambiava non era una stanza c'era l'other world tornavi indietro e uscivi dall'other world rientravi nella stanza c'era di nuovo l'other world una volta che entravi nell'other world tutto il mondo veniva invaso dall'other world qui no qui solo quel punto è diciamo other world qui siamo nel confine ok siamo tra la realtà e l'other world perché questa palesemente non è proprio la realtà ma non è neanche l'other world capite è strano è diversa sta cosa confonde sembra proprio quasi fatta apposta per confondere i fan oramai abituati a un other world molto simile tra l'uno e il due è diverso ma molto simile quindi noi siamo scesi noi siamo scesi di là dalla platform 1 di qua abbiamo una porta chiusa boni boni qual'era? di qua a destra ma era quella con con il bullone sì e vediamo se possiamo usare tipo lo schiaccianoci per girare il bullone chiudo una porta con il bullone con le mani non riesco vediamo un po' e dai sti tasti perché accade questo? perché mi sto portando in contemporanea anche la serie di final fantasy dove si usa il triangolo per aprire il menu e fare cose quindi mi viene sempre da premere triangolo per aprire il menu sì lo schiaccianoci ho usato uno schiaccianoci porta che ci porta a powell garden però di qua dice north end power garden guarda che roba c'è north end 1 di qua e se guardi sopra powell garden 2 poi powell garden 2 north end 1 oh yeah sembra il sito delle poste e siamo di nuovo nel ladder world più in profondità nel ladder world treni uh proiettili per fucile cartucce per doppietta eh sì di nuovo di nuovo questo non è un ringhio dei cani è qualcosa di diverso che fa sto suono eccola un pacco regalo forse è un regalo di compleanno no credo proprio di no nessuno mi regalerebbe qualcosa di così disgustoso ma lo prendo ugualmente potrebbe dimostrarsi utile contro i mostri abbiamo una doppietta cos'è che strisciamo però guardate un pacco regalo bello impacchettato col fiocco di nuovo rimandi alle solite tematiche quelle dell'infanzia all'adolescenza questo in realtà il pacco regalo è una cosa anche più infantile che adolescenziale si va là uuuh muore da terra cerchiamo di cerchiamo di passare oltre ok piano piano da qui possiamo scendere ulteriormente scendiamo è aperto forse no dove siamo ok da qui abbiamo accesso forse a tutte le piattaforme centranata college bergen street questo è il nostro obiettivo ovviamente me lo aspettavo prima di andare verso bergen andiamo al centranata oh vai cani guarda avanti Eder Eder guarda avanti eccoli dove siamo ok siamo proprio nella nella piattaforma dove si prende il treno controlliamola non posso controllare minimamente la telecamera ehi la un altro cane lì ok qui non c'è niente per noi business day stavo leggendo il cartellone mi sono preso pure un morso come stiamo ancora bene ancora bene sto giubbetto antiproiettili fa egregiamente il suo lavoro quindi proviamo ad andare verso bergen a sto punto anche se abbiamo un'altra scala che portava verso bergen al piano di sopra ma andiamo a vedere andiamo a vedere ancora cani eravamo di là noi non c'è il treno qui abbiamo aperto una shortcut per concords ok possiamo scendere non me la ricordavo questa vediamo vediamo ok noi prima eravamo di là platform 3 what the fuck ok 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 no no non me la ricordavo proprio questa giuro ok mi ha mi ha spiazzato ok non abbiamo lo schiaccianoci devo rifarmi l'ultima parte che non è un problema è perfetto perché noi siamo giunti alla nostra durata canonica quindi possiamo fermarci qua io da qui al prossimo episodio mi rifaccio questa piccola parte che ho fatto adesso riprendo lo schiaccianoci riapro le porte e torniamo poi indietro ci rivedremo più o meno qui perché è per qui che abbiamo la scalinata che dobbiamo andare ad esplorare perché abbiamo visto che passare dalla ferrovia non è una cosa furba alla prossima non è una cosa furba